Il Superbonus è un'opportunità di sviluppo potenzialmente rivoluzionaria, ma occorre che ne sia consentito un accesso più ampio possibile in un arco temporale pruriennale, accelerando così i tempi per l'avvio dei lavori e mettendo a sistema le professionalità di tutti gli innumerevoli attori coinvolti nel processo non più rimandabile di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica del patrimonio immobiliare del Paese. Se ne è discusso oggi a San Salvo attraverso un incontro organizzato da Lancia e Abruzzo, ma quali sono i vantaggi economici per i proprietari e per il territorio? Ecco cosa ne pensa Gennaro Strever. Il Superbonus 110 è stata una grande opportunità per il Paese Italia, una grande opportunità che ha permesso di rismuovere un'economia diffusa, l'economia circolare, ha dato la possibilità di rinnovare un patrimonio immobiliare fatiscente a partire dagli anni 60, 70, 80, che oggi ha bisogno seriamente di rivedere le strutture a livello sismico e a livello ambientale quando riguarda la componente acustica ed isolamento termico. Sul lungomare San Salvese è stato realizzato uno dei primi interventi a costo zero per i proprietari dell'immobile da ristrutturare, con quest'ultimo che ora ha un valore sicuramente superiore sul mercato. Questo è un progetto che noi avevamo già iniziato prima del Superbonus a valutare, con l'avvento del Superbonus ci siamo adeguate alla legge ed insieme a un pool di tecnici, tutti di San Salvo, sia la parte ingegneria che la parte fiscale, abbiamo portato avanti questo progetto, iniziato i lavori a settembre, finisce oggi il cantiere ed è un intervento molto importante perché abbiamo rinnovato sia la parte sismica che la parte solamente termico-acustico. Durante l'incontro è stato ribadito l'auspicio di vedere realizzate sempre maggiori e numerose iniziative ed è stato rilanciato un appello al Governo affinché il Superbonus venga prorogato ulteriormente. Solo in tal modo il Superbonus potrà essere un valido strumento nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è l'ultima grande occasione per rilanciare la crescita e dare un futuro migliore al Paese.